A metà mattinata il sistema era già in tilt, a quell'ora erano già quasi un milione gli utenti che avevano fatto l'iscrizione al metodo di pagamento elettronico, quello che prevede i rimborsi dello Stato per chi paga con carta o bancomat. Le chiavi di lettura, come sempre in Italia, possono essere due. La prima non funziona mai niente e anche in questo caso potevamo bussare a Pornhub e farci prestare uno dei loro server. La seconda chiave di lettura, gli italiani sono meno picoroni e arretrati di quanto invece si volebbe far credere. Al contrario, siamo moderni, siamo smart, capiamo al volo, ci iscriviamo in massa se conviene e se è uguale per tutti. Qualcuno vorrebbe far credere invece che siamo una specie di terzo mondo, fatto di fannulloni, tutti spaghetti e mandolino, la pizza al sabato sera e la raccomandazione per il figlio di mamma. L'Italia non è questa, la cioceria non è questa. I dati sulle iscrizioni al piano cashback in Italia e in provincia di Frosinone parlano chiaro. La politica dovrebbe svegliarsi e guardare a quei numeri per rendersi conto che il paese fuori da Montecitorio, fuori da Palazzo Madama sta un passo avanti a loro. È questo modo vecchio di vederci che non va bene. Il cashback è solo l'inizio. Chissà se i politici avranno il coraggio di accorgersene e di rendersi conto che loro per primi non sono vecchi ma superati e sono due cose diverse. Senza ricevuta di ritorno.